15 regali beauty da fare a se stesse ma anche alle amiche più care, alla mamma, alle sorelle, insomma a tutte le donne della nostra vita a cui vogliamo bene. Ciao a tutte e benvenuto al nuovo video, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi manuali tutti dedicati all'immagine di noi donne over 40. Oggi sono qui per un video già un pochino prenatalizio, comunque speciale visto che siamo in area Black Friday e poi ci sarà Natale quindi tantissime di noi approfittano dai grigliotti sconti per fare magari anche un pochino di shopping e per farsi anche qualche regalino, io sono certa che me lo farò perché questo mese compio anche tra pochi giorni gli anni e quindi sono solita farmi qualche bel regalino e di solito almeno qualcosa tra le cosine che mi regalo rientra nella sfera beauty. Per cui ho pensato di fare questo video un pochino di ispirazione e anche per aiutarvi magari a fare un pochino di shopping sia che si tratti di cose che volete regalare ad altre sia che si tratti di regali che giustamente volete fare voi stesse perché a volte è veramente il caso di coccolarci e di premiarci. Una prima idea beauty da regalarsi e regalare è un dispositivo beauty di ultima generazione. Io quest'anno come forse avete visto da altri video, dalle recensioni che ho fatto su richiesta di moltissime di voi ho avuto modo di scoprire, di testare, sperimentare su me stessa su un arco di tempo anche abbastanza lungo una serie di questi dispositivi e soprattutto di apprezzarne veramente l'incredibile efficacia rispetto a qualsiasi prodottino o cremina che ci possiamo spalmare sul viso. Di alcuni vi ho parlato approfonditamente in alcune recensioni dedicate, ve le linko magari anche qua sotto perché veramente ne sono entusiasta. A questo proposito ci tengo anche a ringraziare lo sponsor di oggi di questa parte di video Current Body che è il numero uno e leader in Europa come sito internet per la vendita di tutto quello che sono i dispositivi tecnologici per la nostra bellezza di ultima generazione. Trovate tutte le grandi marche, trovate anche le chicche, quelle proprio d'avanguardia, quei prodotti e quei dispositivi pluripremiati che veramente possono fare tanto per la nostra bellezza. E qua sotto ve lo linko e vi linko anche tutti gli codici sconto che sono riusciti a trovare perché a volte non si tratta proprio di spese super economiche ma con gli sconti veramente vale assolutamente la pena investire almeno in uno di questi dispositivi. Per me devo dire i due di cui sono in assoluto più entusiasti sono da un lato il NuFace Mini di cui vi ho già parlato in lungo e in largo che è una sorta di palestra per il viso. Funziona infatti in base alla tecnologia della microcorrente e quindi è come un allenamento per il nostro viso. allena tutta la muscolatura e quindi aiuta a mantenere i tratti del viso, a evitare proprio quei crolli del viso che inevitabilmente con l'età un po' tutte altrimenti rischiamo e soprattutto magari se decidiamo di imbarcarci in qualche dieta o comunque abbiamo degli sbalzi di peso rischiamo di più. È veramente un dispositivo super efficace che vi consiglio ormai lo uso da quasi un anno. È come veramente fare un allenamento in soli 5 minuti per il vostro viso è assolutamente piacevole da passare. Io non mi dimentico mai di passarlo questo perché ne vedo i risultati immediati. Quindi se cercate qualcosa per tonificare i vostri lineamenti, per dare tono a tutto il viso ma anche per migliorare la grana perché sarebbe un effetto indiretto nel senso che dopo aver passato questo la pelle diventa anche più ricettiva per tutti i trattamenti, i sieri e le creme e quindi molti notano anche proprio un miglioramento, un affinamento anche della grana. Questo è veramente un portento e ve lo consiglio. In abbinamento, a seconda di quelle che sono anche le vostre problematiche, c'è la maschera a led. Questa è un'altra tecnologia basata su una tecnologia appunto diversa che è quella della luce led che promette di stimolare la produzione di collagene e di elastina e al tempo stesso omogenizza anche il colorito della nostra pelle quindi va a combattere tutto quello che sono le macchie. È suggerito dai dermatologi anche in caso per esempio di rosacea oppure di altri problemi che creano diciamo delle discromie sul nostro viso. Questo è veramente, se siete super pigre come a volte lo sono io, il dispositivo più semplice da utilizzare perché è una semplice maschera che vi rende anche molto buffi, con questo elastico voi la indossate, accendete, sentirete un piacevolissimo calorino che soprattutto adesso in autunno e inverno fa veramente piacere, la lasciate su facendovi assolutamente le vostre cose perché appunto gli occhi, voi comunque continuate a vedere, a respirare e a parlare mentre la indossate, potete fare qualsiasi altra cosa mentre la indossate ed è veramente un toccasana per la produzione di elastina e di collagene della nostra pelle e al tempo stesso è anche un accessorio pigro da indossare quando volete. Di questo vi lascio anche il mio codice sconto qua sotto che toglie il 20%. Un altro dispositivo, questo ce l'ho da qualche settimana appena, quindi appena ho iniziato a usarlo, è il dispositivo Silken che arriva anche con il suo siero che è contenuto nella confezione. Il dispositivo Silken serve sempre a stimolare la produzione di elastina e collagene lo fa in profondità grazie alla tecnologia della radiofrequenza quindi questo dispositivo che rispetto agli altri due richiede forse qualche minutino in più perché il trattamento consigliato è di un quarto d'ora va veramente ad agire in profondità per favorire il rinnovamento della vostra pelle quindi combatte le rughe, stimola la produzione appunto di collagene e di elastina rende la vostra pelle più tonica, più elastica anche questo aiuta in qualche modo a dare più tono alla vostra pelle e la rende anche questa più ricettiva per i trattamenti successivi. Ritengo che questo sia forse più profondo come effetto della maschera LED richiede anche più tempo e anche più impegno e quindi dovete un pochino valutare secondo me cosa fa il caso vostro. Io per esempio che ho sempre poco tempo probabilmente tenderò a utilizzare di più la maschera LED anche perché posso fare altro mentre la indosso ma questo è sicuramente se amate veramente indulgere nelle routine anche un pochino prolungate per la vostra bellezza questo è veramente un acquisto da valutare. Oltre a tutto questo Current Body mi ha anche inviato un dispositivo questa volta manuale quindi che non ha bisogno di corrente elettrica ed è questo interessante roller che ha queste due palline che come vedete scorrono a loro volta e questo serve per esercitare un semplice ma vi assicuro efficacissimo l'infodrenaggio sulla vostra pelle è qualcosa di semile forse al guascia o altre tecniche di questo tipo ma io trovo che sia il peso specifico di questo strumento sia queste due sfere che scorrono a loro volta permette veramente di stimolare in modo fantastico i punti dell'infodrenaggio sicuramente questo non richiede corrente è una tecnica più manuale ma non per questo meno efficace aiuta secondo me moltissimo anche proprio a sgonfiare i tratti se per esempio non avete dormito bene a me a volte capita e vi vedete un pochino gonfi al mattino passate questo con un gel tra l'altro sempre da Current Body ho ricevuto questo gel a base di tè verde quindi ulteriormente drenante, liftante che passato con questo è veramente favoloso veniamo adesso ad altri regali per la nostra bellezza da regalare e regalarsi secondo me, questo qua parliamo più di bellezza interiore dopo aver parlato di quella esteriore un bellissimo regalo da farsi è un bel libro di crescita personale io vi ho parlato più volte di quello che mi sta dando di più adesso che si intitola l'arte della semplicità di Dominic Loro ma naturalmente a seconda dei problemi o anche diciamo delle zone, delle aree della vostra vita a cui volete dedicarvi in un determinato periodo esistono dei libri favolosi qua sotto ve ne linko qualcuno se può interessarvi che a me hanno lasciato qualcosa e magari mi hanno anche aiutato in qualche momento particolare della nostra vita comunque un libro di questo tipo è sempre un gradito regalo anche perché magari nel periodo delle feste così abbiamo un pochino più tempo per dedicarci anche a noi stesse alla lettura un altro regalo per la nostra bellezza di questo vi ho parlato qualche mese fa potrebbe essere una linea per i nostri capelli formulata apposta per le nostre esigenze a me è stato fatto nell'ambito di una collaborazione con My Formula ma in questo video assolutamente non sono sponsorizzata da loro però la sto usando da alcuni mesi e ne vedo anche gli effetti cioè certi prodotti proprio se sono stati formulati in base alle nostre esigenze funzionano in modo completamente diverso secondo me tra l'altro i prodotti di My Formula sono poco schiumogeni e sono senz'altro di alta qualità la chicca delle loro linee è secondo me la maschera pre-shampoo che applicate soprattutto sulle radici e poi andate a massaggiare anche sulle lunghezze che lasciate in posa solo un qualche minuto che secondo me pulisce e idrata veramente i vostri capelli in profondità e l'effetto complessivo dei lavaggi e anche di un semplice shampoo e balsamo poi sono davvero radicalmente diversi se vi interessa provare una linea capelli formulata appositamente per voi vi lascio qua sotto il link un altro regalo secondo me bellissimo da farsi e io lo ricevo ormai da qualche mese da Look Fantastic è un cofanetto una cosiddetta beauty box secondo me quella di Look Fantastic è in assoluto la migliore infatti so che anche molte di voi perché me l'hanno scritto sono già abbonate praticamente è una box una scatola una confezione piena di prodotti che ricevete una volta al mese ad un costo nettamente inferiore a quello che sarebbe la somma del costo dei singoli prodotti che contiene che vi permette ogni mese di sperimentare diversi prodotti ma secondo me i vantaggi e lo sto scoprendo proprio in questi mesi di una beauty box vanno molto oltre innanzitutto ci permettono di uscire un pochino dalla nostra solita routine di scoprire marche ma soprattutto prodotti interessanti per la nostra pelle che magari possono essere migliori di quelli che stiamo utilizzando è una coccola da fare a se stessi perché quando arriva è sempre una festa abbiamo un regalo ogni mese invece che magari solo una volta all'anno da spacchettare le confezioni sono sempre deliziose corredate anche da una rivista che spiega meglio i prodotti che contiene anche altri articoli interessanti inoltre e questo per me che sono una viaggiatrice proprio incallita è un ulteriore vantaggio nell'arco nel giro solo di pochissimi mesi vi permette di crearvi praticamente il beauty case da viaggio ideale perfetto perché anche se le confezioni sono spesso full size a volte ci sono quelle proprio le confezioni da viaggio che durano magari due o tre settimane e quindi è molto più semplice poi fare il beauty case da viaggio senza portarvi dietro il mondo quindi i vantaggi sono molteplici anche qui ho lo sconto ve lo lascio qua sotto e se volete abbonarvi potete farlo per un mese tre mesi sei mesi oppure anche per un intero anno naturalmente più lungo l'abbonamento e meno costa però se volete anche dirvi provo e vedo come va se mi piace potete farlo anche solo per qualche mese e comunque il risparmio è già assicurato un altro bellissimo regalo da fare a se stessa secondo me è un prezioso gioiello io amo la bigiotteria ma secondo me un gioiello in oro giallo in oro bianco anche in argento ci regala qualcosa di più e resta con noi per tutta una vita a questo proposito io ho scoperto un sito fantastico dove è possibile risparmiare tantissimo su tanti classici della gioielleria italiana e internazionale tante eccellenze da comellato a marchi come Damiani Salvini ma anche brand internazionale si trovano veramente quei classici tanto amati a prezzi super scontati per cui ve lo lascio qua sotto perché per me si è rivelata una risorsa e l'ultima volta che mi sono fatto un regalo l'ho comprato proprio lì un altro regalo beauty di bellezza interiore anche di apertura mentale vorrei dire da fare a se stessi è un viaggio anche solo a corto raggio anche in una città vicina magari una città d'arte che regala tantissima bellezza ai nostri occhi proprio alla vista secondo me è un regalo stupendo da farsi è un regalo certo immateriale è un regalo di un'esperienza che a volte possono essere i regali più belli quindi sia più vicino a casa nostra sia andando lontano secondo me un viaggio è sempre un regalo che offre tantissima bellezza un altro regalo e qui sono di parte è una bella borsa e con bella borsa non intendo assolutamente una borsa firmata anche se vi piace qualche modello iconico di qualche marca di lusso perché non regalarsela potendolo fare ma con bella borsa intendo semplicemente una borsa fatta di materiali eccellenti di altissima qualità che ogni volta che la sfioriamo e poi soprattutto la indossiamo regala quel tocco in più alla nostra immagine sicuramente è un regalo di bellezza per eccellenza da farsi almeno una volta nella vita secondo me perché veramente crea valore aggiunto in tutto il nostro guardaroba anche qui vi lascio qui sotto qualche risorsa dove le compro io usufruendo spesso degli sconti adesso che ormai siamo in area black friday vi conviene senz'altro dare un'occhiata tra i regali beauty da farsi e da fare c'è sicuramente anche il dono di un bellissimo profumo che parli in qualche modo di noi io mi sono voluta regalare un profumo specifico per l'autunno e inverno ho scelto questo di bottega veneta che ho preso su look fantastico e lo linko qua sotto e che trovo semplicemente meraviglioso è un profumo speziato che ricorda un po' anche i profumi delle foreste in autunno è comunque molto interessante come fragranza non è banale la trovo ultra femminile senza in alcun modo essere stucchevole e mi piace tantissimo anche il flacone che è così è questo nastrino in pelle che ricorda un po' la maison ed è veramente molto bello anche da tenere esposto ve lo linko comunque qua sotto se vi interessasse un altro regalo beauty da farsi è un corso online secondo me questa è la stagione perfetta per i corsi online lo vedo anche assolutamente dalle vendite del mio corso fino al tuo stile perché si sta più tempo in casa magari abbiamo dei lunghi pomeriggi di pioggia o di mal tempo da trascorrere in casa e secondo me è un regalo assolutamente per la propria bellezza interiore a volte anche esteriore a seconda dell'argomento è senz'altro un corso online continuiamo a formare la nostra mente a imparare cose nuove perché questo ci rende sicuramente persone più belle e interessanti anche interiormente e adesso avendo la possibilità di espandere le nostre conoscenze anche con i corsi online secondo me è un modo meraviglioso per farlo anche perché possiamo farlo in qualsiasi momento addirittura magari mentre stiamo facendo altro e soprattutto con i ritmi tutti nostri quindi troviamo sicuramente il tempo che magari non avremmo per seguire un vero e proprio corso fuori casa un altro regalo beauty che possiamo farci anche qui è un regalo immateriale ma assolutamente utilissimo è magari una lezione con un personal trainer o addirittura un pacchetto di lezioni io per esempio mi alleno a casa ho la mia palestrina qui a casa ho anche abbastanza attrezzi per allenarmi in modo diciamo completo il regalo che mi sono fatta qualche tempo fa è stata una lezione con un personal trainer spiegandogli esattamente cosa avevo a disposizione a casa quali erano le mie esigenze i miei obiettivi e quanto tempo volevo dedicare all'attività fisica e lui mi ha messo appunto un programmino della durata di mezz'ora che comunque mi permette un allenamento fisico completo e soprattutto è stato lì a valutare esercizio per esercizio a lungo anche come lo eseguivo per evitare poi magari i movimenti sbagliati che possono anzi danneggiarci per cui secondo me è un ottimo regalo beauty da farsi e da fare un altro regalo beauty da farsi è secondo me una linea viso qua sto parlando di cosmetici azzeccata per la nostra pelle all'inizio vi ho parlato dei dispositivi ma sicuramente c'è anche una componente cosmetica che può aiutare moltissimo la nostra pelle a mantenersi più a lungo possibile giovane e fresca quindi ecco regalarsi qualche cosmetico sarà banale, sarà scontato ma in questo momento dell'anno secondo me è il caso di fare scorte perché ci sono anche ottimi sconti sono in arrivo gli sconti del black friday e tante altre occasioni per cui anche qui vi lascio qualche link qua sotto a linee secondo me dall'ottimo rapporto qualità prezzo che sicuramente fanno qualcosa per la nostra bellezza un altro regalo beauty da farsi secondo me è un bel libro di cucina di quelli belli patinati da tenere anche in bella mostra in cucina di ricette sia gustose ma anche sane questo è naturalmente l'impatto sulla nostra bellezza è in diretto ma è anche diretto perché questi libri a volte sono così belli che tenerli esposti in cucina abbelliscono sicuramente anche le nostre cucine ma soprattutto la bellezza poi arriva da dentro perché ci invoglia sicuramente di più a cucinare sano a fare qualcosa di positivo per la nostra salute magari anche per la nostra linea se ne abbiamo bisogno facendolo in modo piacevole bello per gli occhi perché si mangia anche sempre un pochino con gli occhi e quindi invoglia sicuramente di più io mi sono appena comprata il libro di cucina vegan cucina botanica perché mi piace andare un pochino in quella direzione senza diventare per forza vegana ma comunque è veramente bello sono veramente bei piatti che danno soddisfazione anche agli occhi sempre parlando di cucina un altro regalo beauty intelligente anche bello da farsi può essere magari un piccolo elettrodomestico da cucina che ci aiuti a cucinare in modo più sano e quindi ancora una volta aiuti la nostra salute e anche in ultima analisi la nostra bellezza qua può trattarsi a seconda delle esigenze magari del frullatore per preparare degli smoothie ricchi di principi nutritivi e vitamine può trattarsi magari di una bella vaporiera io a casa per esempio al forno a vapore e posso dire che è veramente un prezioso alleato perché mi risparmia tantissimo tempo e soprattutto mi permette di cuocere le verdure in modo gustosissimo fragrante bello mantengono tutta la loro croccantezza e fragranza e al tempo stesso preservando anche i nutrienti e al tempo stesso preservando anche i nutrienti che contengono quindi ecco valutiamo se non sia il caso di regalarsi un piccolo robot a cucina oppure un altro dispositivo di questo tipo se questo ci aiuta poi a cucinare più sano e più leggero infine l'ultimo regalo beauty da farsi e ancora una volta parliamo sia di bellezza interiore che esteriore è una mezz'ora ogni giorno o almeno tutte le volte che possiamo farlo da regalare a se stesse per dedicarsi alla propria crescita personale magari attraverso letture ma anche meditazioni guidate corsi online dedicati proprio anche alla nostra interiorità sia al nostro aspetto esteriore magari per regalarci mezz'ora di coccole pure anche a livello beauty e quindi senz'altro fare del bene anche al nostro aspetto ecco questa mezz'ora al giorno da dedicare veramente solo ed esclusivamente a noi stesse secondo me è il dono più grande è una cosa che noi donne non sempre riesce facile perché siamo sempre prese su mille fronti la nostra presenza e attenzione il nostro lavoro è sempre richiesto anche dagli altri e quindi a volte stentiamo a ritagliarci questo tempo per noi eppure è davvero molto importante è importante prenderselo se possibile ogni giorno anche se significa magari alzarsi mezz'oretta prima se proprio non c'è un altro modo un'altra finestra temporale nell'arco della giornata ma facciamolo perché veramente noi valiamo e ci meritiamo questa finestra solo per noi spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato di ispirazione che magari vi abbia dato qualche idea per farsi un bel regalino per farlo anche alle donne a cui vogliamo bene qua sotto trovate tutti i link che ho trovato alle cose di cui vi ho parlato con i relativi sconticini per farvi risparmiare naturalmente il più possibile se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicione su un bel like e naturalmente iscrivetevi al canale accendendo la campanella per non perdervi anche i video che farò in futuro e con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata ciao 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 ciao